eeeh bella notte ragazzi io sono cdb7 e oggi vi do il benvenuto prossimo episodio di fortnite e magari cominciamo ad arrivare con gli episodi tantissimi e senza interruzioni sempre avuto questo video di fortnite che però ragazzi o senti qua quindi magari si potete scrivere i commenti ma no comunque chi ha i whatsapp chi ha instagram mi scrivete su coloro perché non ha i whatsapp ma ha instagram alla fine così vi dico il mio id di insta per magari sapere se qualcuno ha qualche sito di minecraft io lo cerco comunque cominciamo con due news del 20 e una news del 21 facciamo news della giornata quindi facciamo due news e poi un'altra news comunque due news stop il video e poi un nuovo video con una news comunque fotografia su manifesti fate notare dal giorno scusate esprimenti con la foto con la fotografia strani tempi fatti notare nel gioco nel gioco ok 29 ma 21 il team di fortnite ora che arriva lo spirito di balenjaga ecco balenjaga adesso fortnite incoraggiamo a esprimere la tua identità nel modo più inaspettato che puoi per la previsione vogliamo dare una il via a una piacere campagna dinamica di foto di portografia invece di dimostrare le immagini sul nostro blog le mostriamo in gioco se non è presente nel centro di evidenza di strani tempi allora questa qui e se non sbaglio è l'alta modalità digitale su fortnite che dopo non leggeremo non so se fosse qualche risposta che non ho letto comunque combina la tua moda con gli amici oppure condividi una nostra prospettiva avere attrezzatura balenjaga equipaggiata e facoltativo l'importante è esprimere se stessi oltre agli screenshot questa volta può inviare anche foto con modifiche notevoli anche un personaggio di foto raffigurato in modi che non abbiamo visto prima mostra la tua individualità a tutto il mondo sceglieremo le immagini aspettate che ci colpiscono di più e inseriremo le tue immagini nel gioco scopri se la tua immagine partecipa a questa campagna in modo di muovere dal vivo controllando i manifesti posizionati in tutto il centro leggi qui sotto per scoprire come inviare le tue immagini e consultare le regole ed esempi come sottoporre un'immagine io vorrei scherzo comunque puoi condividere le tue immagini utilizzando entrambi gli hashtag hashtag photography e hashtag string times su twitter e o il post di strangetimes su r slash fortnite br che è sempre solito questo chiusa è che magari riesco a circolare a farlo e e bisogna fare cosa e cos'è reddit devo scaricarla a credit se non sbaglio Comunque L'inglese comunque Non interessa che l'inglese lo somma poco Metteremo in mostra E aggiorneremo la nuova selezione Delle nostre immagini preferite Nel centro strani tempi Che sarà disponibile dalle 16 del 21 settembre O italiana Chi mi presenti che non potremo mostrare Tutte le nostre immagini preferite Ma continua a inviare immagini Fino al 18 del 23 settembre O italiana Metteremo in mostra le nostre preferite Fino a quando Il centro creativo Fino a quando il centro non uscirà Dalla rotazione il 23 settembre Alle 16 u italiana O condividere un'immagine dopo Il 23 settembre Alle 18 u italiana Le immagini inviate dopo Questa scadenza non saranno In il centro Ma potremmo comunque Retweet E' difficile questa parola Retweet Retweet Retweetarle Da Chioccio Da FN Creat E Infatti No tweet Ma io tweet Non voglio Non mi piace Poi anche in inglese Come italiano Comunque Regole Linee guida Sulle immagini Immagini Come sempre La fotografia La fotografia Le immagini Non devono contenere Nuovi visualizzati Epic Le immagini Devono avere Un formato Immagini 19 Qualsiasi contenuto Di forte Demostrato L'accezione Dei contenuti Di gioco Valenciana Deve Provenire Dall'università Di fortnite E' Deve Computare Intellettuali Terzi Quanto Ad altri tipi Di contenuti Non devono Contenere Marchi O log Di terze Parti Contenuti Di cui Non possiedi I diritti Le immagini Devono rispettare Le linee guida Sui contenuti Di epic Come indicato In precedenza Non è necessario Ad avere L'attrezzatura Balanciata Equipaggiata Esperimenti Libertà Esempi Di immagini Le immagini Possono Ragazzi So che Magari Alcuno Prenderanno Che quando Spiego queste cose Voi non capite O io L'ho Così A vana Per fare Il video No Io Faccio il video Perché Anche se lo spiego Cioè Io Proprio Spiegare Ma Se ne Senti Che Devo Spiegare Non lo Spiego Cioè L'importante Che Che voi capite Cerco sempre Parla piano Niente Esempi Di immagini Le tue immagini Possono spaziare Da una schermata Standard A qualcosa Super ritoccato Filtrato O modificato In qualsiasi modo Grazie Grazie al nostro team Di epic Abbiamo raccolto Alcune immagini Come fonte Di ispirazione Per la tua creatività Queste immagini Saranno in evidenza Nel centro Per aiutare Il maggior numero Positivo Di fotografi Ok Schiena Di acaso Immagini Quindi Ecco qua Di tre immagini Questa qua Un po' Sfocata Fa niente Con questi Così Ecco Poi Balenciaga Che Sono I tre Skin Più Famosi Di Un altro modo Che E' Non Comune In quel Caso Poi Un altro Schiena Non so Chi è Poi Ancora Mascolo Cartoon E poi Il Il Sempre Penso Sempre Il Corso Commercio In tutte Le lingue Immagino E' Il tuo Grande Momento Per Esprimere La tua Identità Oh Beh E' Solo In poche parole Che Cliccate I due Link Per Fotografare Le cose Comunque La moda Di Balenciaga E' Arrivata Su Fortnet C'è il Trello Giusto Ecco L'altra Moda Scirale Arriva Su Fortnet Con Balenciaga 29 21 Del Team Di Fortnet Prima Di Ragazzi Io quando ho visto questo video qua ho detto Non mi dice Dico Cioè Ho Pensato Con una parolaccia in mente Spelling Non mi dice un cavolo Non ho detto però Ho detto Un modo più volgare Non tanto volgare Sarebbe che Che Tre Di Comunque Niente Comunque Dai Adesso che L'ho visto un po Un po Mi ha Mi è piaciuto Comunque La nostra Passarela Non è Non è Per mettersi In mostra Ma per essere Se stessi Il 21 Settembre V2 21 Alle Due Ore Italiana La moda Di citare Prende vita A fortnet Ramire Ecco Che Ramire Scarlino E altri Si spingono In un modo Competamente nuovo Con l'aiuto Del fit set Di balenciaga Mostra un lato In atteso Alla resta Del mondo Oh Il 21 Settembre Ragazzi Il 21 Settembre Il 21 Settembre E oggi Infatti E' Ieri Non so Fino Fino A quando E' Però Comunque Mostra Un lato Nella tesola Del resto Al resto Del mondo Con gli aviti Le set Gli sprite Gratuiti Il centro In evidenza Strani Tempi E una campagna Fotografica In diretta Ragazzi Questo qui Sono tutti Sempre Nel solito Posto Spare Gratuiti Sempre Nel solito Posto Centro In evidenza Strani Tempi Sempre Nel solito Posto Se non caricava Tutto E Fortografica Ecco Fotografia L'impero Nel solito Posto Comunque Gli spaghetti Agli autentici Look Storici Della casa Di moda Di lusso Balenciaga Ecco Tutto In movità In arrivo Nel negozio Oggetti Costume Balenciaga Fit Costume Ramirez Scatenata L'altra Moda Ramirez Se non sbaglio E Una skin Aspetta che Cerco di Questa qua Ok Questa qua Intendo Ok O Questo qua Ramirez Sembo Nome Da masche Però Non vorrei Insultare Quelli che conoscono Tutti Le skin L'altra Moda Più Hot Comprendo Si Scatenata Argento Allora Si Questo qua Costume Carino VIP Chi è Il Cagnato Più Grande Che ci sta Che ci sia Comprendo I stili Alternativi Carino VIP Cardinale Carino Vive Mezzanotte Che E' Questo qua Al 100 Parte Alla skin Default Che è Banshee Fashion Consume Consume Banshee Fashion Buster Battelle Operato Passerella Pronta Comprendo Lo stile Attentivo Banshee Fashion 24k Si Fashion Qua Non è che sia Questo qua E poi L'ultimo Consume Cavalier Si Cavalier Crestato Super Vintage Praticamente Medievale Comprendo Lo stile Di Cavalier Crestato Fortivo La Mola Digitale Carlino VIP Si basa Su Una Correzione Fortnet Per X Beh Diciamo X Che poi Per Diciamo X Che è meglio Balenciaga Che arriverà Nel mondo Real Nel negozio Balenciaga Selezionati In tutto Il mondo E su Balenciaga Punto Com Verrà Lanciato Il 20 Settembre Secondo Della Regione Allora Non so Se Oggi O domani Io Vi so Oggi Però È Scrivato Ieri Comunque Dolorsi Decorativi Balenciaga Fit Dolorsi Decorativo Zenetto Brandizzato La stampa All over Va super Di moda Dolorsi Decorativo Che Dolorsi Zenetto Brandizzato Non so Che È Dolorsi Colattivo Bolsa Port Skate Port Skate Penso Che Sia Zaino 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 Che Zaino Chic Quotidiano Altra Moda Basso Profilo Dolorsi Colattivo Zenetto Mimetico Ma Dove Ho lasciato Lo Zaino Mimetico È Questo Qua Quotidiano Penso Che Sia Questo Qua Ok Pors Che Penso Che Sia Questo Tutti Balenciaga Sono Infatti Ok Comunque Piccone D'alta Prana Copertura Ed Emote Balenciaga Fit Piccone Sneak Sneaker Shock Chi Dice Che Non Può Usare Una Snake Come Piccone Comprende 5 Stili Alternativi Di Colore Diverso Delta Plano Borsetta Plano Dentro C'è Anche Il Lucida Labbra Copertura Look Inconfondibile Aggiungi Un Po Di Moda Alle Tue Dexture Comprende Gli Stili Attenuti Mezzanotte E 24 K Emote Il Look Ma Si Imposa Così Sblocca Spagatute Con Dalle 16 Settembre Alla 16 Settembre O Estadiana Carriano Vip Avrà Due Incarichi Per Te Sfoggia La Porta Per Perfetta Con I Graffiti Sullo Sfondo E Procurarli Delle Nuove Snaker S Per Sbloccare Gli Spagatuiti Carriano Fashion E Look Cavaliere In Poi Nuove Mode Nel Centro Nel Centro Di Strani Tempi Vuole Condividere Il Tostile Unico Realizzato È Realizzato Da Cattore Della Community Shared Macamix E Pre Epimit Il Centro In Evidenza Strani Tempi È Un Negozio Balenciaga Virtuale Che Segue In Tutto E Tutto Tutto Questi E Quelli E Quelli Reali Ma Strana E Inaspettata In Questo Centro Speciale Disponibile Dalle 16 Settembre Alle 16 Settembre U Italiana Può Passare Il Tempo Con Altri Amici Alla Moda Cambiare Il Tuo Look Con Le Cambine Spogliatoio E Per Sino Trovare Costruire Balenciaga Fette Direttamente Nel Centro Non Finisce Certo Qui Noterai Le Immagini Di Fotografia Fatti Noterai Nel Gioco Un'altra cosa Che Contrere Nel Centro Sanno I Tempi Sono I Manifesti Dappertutto E Altro Grande Momento Da Ora Fino Alla 23 Settembre Alle 18 Ore Italiana Uniciti Alla Nostra Campana Di Look Book Dal Vivo Estremendo Il Tuo Stile Con Creativi Immagini Forza Che Fondano Dalla Tua Unicità Con Un Tocco Un Aspettato Presenteremo Immagini Che Metteranno Che Mettono In Risalto La Tua Individualità Nel Centro Stani Tempi A Partire Da Quando Sarai Sponibile E Le Aggiorneremo Più Volte Durante La Sua Attività Non Importa Se Che Che Adesso Indossi Esprimiti E Basta Per Maggiore Informazione Dettagli Tra Cui Come Inviare Le Immagini Dai Un'occhiata Al Posto Blog Sulla Fotografia Stani Tempi Farsi Forza La Tua Desilazione Di Moda Questo Attunno Che È Quello Che Avamo Appena Letto Immagino Sì Infatti Allora Questo Qui Non Voglio Neanche Leggerlo Questo Qua Lo Leggerò La Posta Volta Quindi Ragazzi Come Sempre Io Spero Che Questo Vi Sia Piaciuto Se Il Video Vi 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 Piace Commentate Condividete Iscrivetevi Al canale Attivate La Campanina Commentate Pulisci Ombra Con Instagram Che Occi La CD Dicete Sette Tanto Abbasso Official In Ragazzi Un bacione Nel vostro CD Dicete Tutto Bene Ragazzoli Ciao Ciao